Disagi per le visite dei parenti dei malati al Sirai di Carbonia. Ogni giorno all'esterno della Hall si formano lunghe file e le visite sono consentite per un tempo massimo di dieci minuti. Iglesias piange la scomparsa del suo ultracentenario Franco Plaisant, titolare dell'omonima agenzia di viaggi fondata nel 1946 aveva 105 anni. Il dramma degli incendi nel Montiferru in un documentario di Enrico Pau, le testimonianze delle persone che hanno vissuto l'esperienza traumatica dei roghi. Lino Cianciotto, una guida in gamba, in un libro la storia di un uomo che è riuscito a dimostrare come sia possibile superare i limiti apparenti della disabilità fisica provocata dalla perdita di una gamba. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale da Canale 40. Apriamo con la sanità anche oggi ma prima dell'aggiornamento sui dati consueto ormai a cadenza quotidiana. Parliamo dei disagi che si verificano all'ospedale Sirai di Carbonia per le visite dei parenti dalle persone ricoverate. Vediamo un servizio nel quale è ricostruita un pochino tutta la situazione. Continua ad essere critica la situazione per le visite dei parenti dei malati ricoverati all'ospedale Sirai di Carbonia. Le fotografie e le immagini allegate sono state realizzate mercoledì e giovedì ma documentano praticamente le stesse situazioni che si ripetono quotidianamente con decine di persone in attesa all'esterno sia sotto il gazebo allestito durante la fase più critica dell'emergenza provocata dalla pandemia sia sotto il sole dove non esistono né posti a sedere sufficienti né metodi di distanziamento sociale quindi espongono le persone a ulteriori rischi per i malati. Non viene consentito di entrare all'interno della hall neppure se in possesso del green pass e debitamente distanziati. È una situazione inaccettabile ci ha detto la figlia di un anziano ricoverato anche perché succede che delle persone entrino direttamente approfittando di momenti di distrazione di guardie infermieri mentre altre vengono bloccate al controllo del green pass peraltro assai approssimativo e restano fuori esposte a sporcizia e caldo senza alcun distanziamento. Appena ho chiesto di aspettare dentro come previsto nel 2021 la sala d'attesa all'interamente vuota ha aggiunto sono state respinta salvo poi farci salire tutti insieme senza adeguato distanziamento. Il controllo del green pass viene fatto in maniera molto approssimativa ha sottolineato perché non viene effettuato ha chiesto come avviene nei ristoranti con impiego di apposite app. La situazione che viviamo è sicuramente difficile ma rivendichiamo il rispetto dei nostri diritti e l'applicazione rigorosa delle norme. Perché le visite si limitano ancora oggi a soli 10 minuti a paziente al giorno ha chiesto ancora la donna. Contrariamente a quanto avviene in altre regioni dove il tempo a disposizione è maggiore sino a 45 minuti a Milano addirittura senza limitazione temporale esattamente nei tempi previsti prima della pandemia. Il ministero ha previsto che per poter entrare ha sottolineato a visitare un parente o un congiunto è necessario e sufficiente esibire la certificazione verde avvenuta vaccinazione avvenuta guarigione effettuazione di un test antigenico. Nelle strutture ospedaliere agli accompagnatori di pazienti non affetti da covid-19 muniti di certificazione verde è consentito di restare nelle sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonché nei reparti delle medesime strutture. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità legge 104 del 92 è sempre consentito prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura. Come si vede ha concluso la figlia dell'anziano ricoverato. Qui siamo in presenza di scelte restrittive a mio parere ingiustificate che penalizzano pesantemente i parenti e conseguentemente anche i malati che non possono godere di un sostegno dei familiari molto importante in momenti così delicati della loro esistenza. Sono 451 i nuovi casi positivi al covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna su 5.701 test, 3.788 molecolari, 1.283 antigenici che sono stati appunto eseguiti per una percentuale pari all'8,89%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono in crescita, ora sono 20, due in più rispetto all'aggiornamento precedente. Quelli in area medica sono 175, qui l'incremento è di 10 unità. Sono 7.281 i casi di isolamento domiciliare, qui l'incremento è di 82 unità. Si registrano purtroppo ancora quattro decessi, due donne di 75 e 82 anni residenti nella città metropolitana di Cagliari, una donna di 68 anni residente nella provincia di Nuoro e un uomo di 66 anni residente, non residente, nella provincia di Sassari, comunque registrato appunto nella provincia di Sassari. È morto ieri all'età di 105 anni Franco Plaisant, pluricentenario della città di Iglesias, titolare dell'omonima agenzia di viaggi fondata nel 1946, quindi subito dopo la fine della guerra, e gestito in maniera diretta per tanti anni, Franco Plaisant è stato uno dei protagonisti della vita economica, sociale e culturale, apprezzato nel mondo del lavoro per la grande competenza e per la cordialità. Aveva aperto la sua agenzia di viaggi in un momento molto difficile per le attività economiche, l'aveva fatta crescere nel tempo costruendo un rapporto di fiducia con i numerosi clienti che accompagnava ogni giorno nella scelta migliore per andare incontro alle diverse esigenze. Franco Plaisant, ha detto il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, era una persona conosciuta da tutti ed apprezzata sia per la sua attività lavorativa che per lo spessore umano. Oltre ad essere un grande professionista, lo vogliamo ricordare come un uomo di cultura, con la passione per le scienze matematiche, ma anche con una vena artistica e con un grande amore per la pittura. Negli anni difficili del dopoguerra aveva scommesso sul futuro con fiducia e spirito d'impresa, facendo nascere e crescere un'attività diventata con il tempo un punto di riferimento per tanti iglesienti, con professionalità e competenza, oltre che con la grande cortesia che lo ha sempre contraddistinto. Lo salutiamo con profondo affetto, ha concluso il sindaco Mauro Usai, perché con lui va via un grande lavoratore e un testimone del nostro tempo, ma anche una persona garbata e competente e diventata familiare per tante persone che hanno avuto il piacere di conoscerlo. L'ombra del fuoco è il documentario in fase di produzione di Enrico Pau sugli incendi che hanno sconvolto nelle settimane scorse il Montiferro. Vediamo i dettagli nel servizio. Si intitola L'ombra del fuoco, il documentario che il regista cagliaritano Enrico Pau sta realizzando in questi giorni con un gruppo di giovanissimi professionisti impegnati fin dalle prime giornate dopo i devastanti incendi che hanno letteralmente devastato il Montiferro. All'interno del lavoro saranno riportate le testimonianze delle persone che hanno vissuto l'esperienza traumatica dei roghi, che hanno mandato in fumo centinaia di olivetti ed ettari di macchia mediterranea e in cui sono morti tanti animali e da voce alle loro emozioni, al loro racconto collettivo. A detta dei promotori, l'esito filmico sarà il documento di una tragedia che sta cambiando il rapporto dell'uomo con la natura, considerata finora risorsa sociale ed economica, è divenuta ormai una sorta di paesaggio lunare. Il dovere del cinema documentario è quello di essere presente nei luoghi dove accadono i fatti, ha sottolineato Enrico Pau, per raccontare gli eventi che cambiano la storia della nostra isola e dei suoi tesori naturali. Assieme ad Enrico Pau stanno lavorando Pietro Medda, fotografia e montaggio, Federico Montaldo, presa diretta, Claudia Emily Pau, assistente, e Gabriele Muscas, assistente alla camera, grazie alle attrezzature noleggiate da parte di Momo TSRL. Importante è anche il supporto di Gianluigi Bacchetta, docente di botanica e direttore dell'orto botanico di Cagliari, nei sopralluoghi nella zona, per poi continuare a documentare quanto è accaduto attraverso la viva voce di chi ha vissuto il dramma degli incendi. Una guida in gamba, storie di un uomo diversamente disabile e il libro Biografia di Lino Cianciotto, che è stato presentato ieri sera al Parco Riola di Fluminimaggiore. Il Parco Riola di Fluminimaggiore ieri sera ha ospitato la presentazione del libro Una guida in gamba, storie di un uomo diversamente abile, Lino Cianciotto. La biografia, scritta dallo stesso Lino Cianciotto per edizioni Enrico Spanu, con il prezioso editing di Aldo Brigaglia, è ricca di autorevoli contributi, di illustri rappresentanti del mondo paralimpico e dello sport. La serata, sviluppatasi alla presenza di un fotopubblico, circa 200 persone, è stata presentata da Marco Corrias, giornalista scrittore e sindaco di Fluminimaggiore, che ha dialogato con Lino Cianciotto e con Manolo Cattari, psicologo della Nazionale Italiana di Tiro con l'Arco, su storie diversamente disabili. Lino Cianciotto, 59 anni, è diversamente abile dal 2013, quando durante un'escursione a Bugerru venne travolto da una roccia calcarea di 800 kg che gli schiaccia una gamba. La sua vita con una gamba artificiale non è cambiata e Lino Cianciotto nel libro spiega come è riuscito a superare ogni limite. Al termine della presentazione ho intervistato Lino Cianciotto. Lino Cianciotto, il titolo dell'ultima pubblicazione è tutto un programma, una guida in gamba. Storie di un uomo diversamente disabile. Racconta un po' quello che è la mia vita prima e dopo l'incidente avvenuto nel febbraio 2013. E lo racconto in maniera ironica, con anedoti, alcuni episodi drammatici, ma tutti con un messaggio che è quello legato all'inclusione, alla rinascita e all'andare avanti sempre con la stessa forza e tenacia. Otto anni, sembra ieri, invece sono passati otto anni e sono passate tante esperienze. Sì, e spero di continuare a farne tante altre. I primi otto anni le racconto in questa biografia, ma spero di tra altri due, tre, quattro, cinque anni di poterne raccontare tante altre e di poterle raccontare dopo averle fatte con tantissimi amici e di poter continuare poi a dare quel messaggio che è la vera forza della biografia. Ecco, esperienze di vita che conosciute possono essere utili a tante persone che in questi casi spesso non trovano la stessa forza di volontà per reagire e per riprendere la propria vita quasi normalmente. Certo, infatti l'obiettivo di questo libro è proprio quello, quello di dare la speranza raccontando una serie di episodi che io ho vissuto personalmente e che possano aiutare a fare in modo che anche chi ha avuto un incidente, ha avuto un trauma nella sua vita, possa servirgli come stimolo per riprendere in mano la propria vita, perché questo è l'obiettivo di questo mio racconto. È importante che oggi a questa presentazione ci fosse tanta gente, l'ha sottolineato il sindaco Marco Corrias non è abituale assistere ad una presentazione di un libro con tante persone. Sì, ma infatti io me l'aspettavo perché tanti mi hanno chiamato e volevano sentire della viva voce quello che erano i miei racconti. Oggi avere qui oltre 150, quasi 200 persone è stato veramente un bel episodio che porterò nel cuore. In gamba? Grazie. Storia di un uomo in gamba. La Multiservizi sta effettuando una serie di interventi di manutenzione e pulizia e sfalcio nei presidi alcuni edifici scolastici di Porto Torres. I lavori interessano per ora via Porrino, scuole Monte Angello, via delle Vigne, istituto del Sì, dove sono state ridisegnate le strisce pedonali e gli stalli per i disabili e via Brunelleschi. Qui in altre strade, via Francesconi e Balai Alta, si sta procedendo anche allo sfalcio dell'erbacce. La Multiservizi opera quotidianamente per migliorare il decoro urbano, ha sottolineato il sindaco Massimo Mulas. Ma siamo consapevoli che per intervenire in tutte le situazioni critiche dovremo avere a disposizione diverse altre squadre. A causa delle piogge è stato un anno eccezionale per quanto riguarda la crescita dell'erbacce. Il Comune sta facendo il possibile per intervenire su tutte le strade. Per questo ringrazio il personale della Multiservizi, ha concluso il sindaco di Porto Torres, che non si è risparmiato anche nelle giornate di grande caldo. I carabinieri della stazione di Pula, a Chia, hanno eseguito un'ordinanza che sostituisce la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato emesso dalla seconda sezione penale della Corte d'Appello di Cagliari nei confronti di un 25enne residente a Cagliari ma domiciliato a Chia, disoccupato. L'uomo si trovava in regime di arresti domiciliari per i reati di atti persecutori e diffusione illecita di video dal contenuto sessualmente esplicito commessi in danno della ex compagna 22enne. Il provvedimento odierno scaturisce da ulteriori atti persecutori posti in essere dell'uomo nei confronti della propria ex. Dal momento che la misura si è rivelata non sufficiente ad impedire ulteriori attività del disturbo da parte del giovane nei confronti della donna, la magistratura ha dovuto aggravare la misura cautelare volta ad impedire la prosecuzione di tali comportamenti. Ancora cronaca, i carabinieri della stazione di San Gavino, Monreale, a seguito della denuncia querela presentata da un 72enne del luogo pensionato, stamane hanno denunciato a piede libero per l'utilizzo in debito di una carta di pagamento una 32enne del Reggio Calabria, residente a Bari, di fatto irreperibile, disoccupata e incensurata. Dalle indagini svolte dei militari è emerso che la donna aveva effettuato in modo fraudolento una giocata di 100 euro nella sezione Casinò di un sito web specializzato con addebito sul conto corrispondente alla carta di credito prepagata del denunciante che dalla semplice visione nel proprio estratto conto si era reso conto dell'esistenza di tale anomalia senza aver da parte sua mai partecipato ad attività di gioco di tale genere. I militari sono riusciti a risalire all'autrice dell'illecito utilizzo della carta dell'uomo dal momento che i gestori del sito richiedono alle persone che partecipano alle loro attività l'invio di un documento che lo identifichi secondo le previsioni che sono previste appunto dalla legge così come è avvenuto anche in questa circostanza. Porto Scuso ospita da oggi a domenica la sesta edizione del Big Blue Festival l'eco-festival realizzato dall'associazione Argonautilus il servizio. Iniziata stamane al porticciolo di Porto Scuso la sesta edizione del Big Blue Festival l'unico eco-festival della Sardegna realizzato dall'associazione Argonautilus in collaborazione con l'assessorato della cultura del comune di Porto Scuso per la direzione artistica di 011 Solution. La formula dei tre giorni 20, 21, 22 agosto è classica. La prima parte delle tre giornate sarà dedicata ai laboratori per i bambini a cura di Argo Circolo Letterario Fantadia e di una nuova proficua collaborazione con l'associazione Opi Polla. La seconda parte, dedicata agli approfondimenti, alla divulgazione scientifica, alla letteratura e all'informazione, sempre e tutti legati al mare, vero protagonista del festival. Tra gli ospiti Daniele Mocci e Luca Usai, autori di Coda di Castoro, un'avventura per salvare la natura, il professor Massimo Lumini con una performance di grande effetto dedicata alla Aquamater, il geologo Luigi Sanchu con un approfondimento sulle spiagge Sard, il fotografo e naturalista Marco Colombo, direttamente da Gheo con un approfondimento in tema di Citizen Science, la scienza dei cittadini e gli esperti del Centro Conservazione Biodiversità dell'Università di Cagliari, per un excursus dedicato al loro impegno in questi anni a tutela dell'ecosistema. A contorno, le preziose collaborazioni con il gruppo teatrale Subranu per il classico appuntamento di letture di mare, il mare intorno, il Posidonia Green Project, per lo sviluppo del tema della conservazione degli oceani, secondo le indicazioni UNESCO, una mostra fotografica realizzata dai bambini per il progetto I Giardini Possibili, e infine il ricordo di un amico carissimo a cura del gruppo di lettura Alta Voce. Potrebbe interrompersi intanto il rapporto di collaborazione tra l'Associazione Culturale Argonautilus, organizzatrice dal 2016 della Fiera del Libro di Iglesias, e l'Amministrazione Comunale Iglesiente. La Presidente dell'Associazione Eleonora Carta ha spiegato in un video le ragioni che stanno alla base della decisione di rinunciare per l'edizione di quest'anno al contributo deliberato dall'Amministrazione Comunale Iglesiente. L'Assessora della Cultura del Comune di Iglesias, Claudia Sanna, ha replicato a Eleonora Carta, sempre in un video, e al termine del telegiornale, in uno speciale di 6 minuti complessivi, vi proporremo i due contributi filmati. Ad Alghero parte ufficialmente il Festival Dall'altra parte del mare. Vediamo di cosa si tratta. Si è aperto ufficialmente ad Alghero l'ottava edizione del Festival Dall'altra parte del mare, organizzata dall'Associazione Itinerandia in collaborazione con Libreria Sirano. A fare da cornicio alla cerimonia inaugurale è stata la Villa Romana di Sant'Imbenia, aperta in serale in esclusiva per il Festival, grazie alla partnership con il Parco Naturale di Porto Conte. Il primo evento è stato dedicato al territorio di Alghero, intitolato Il Passato davanti a noi, che quest'anno ha voluto rendere omaggio allo storico Guido Clemente, uno dei massimi studiosi internazionali di storia romana, scomparso di recente, amico e prezioso collaboratore del Festival, fin dalla sua prima edizione. A ricordare la sua figura sono stati il sindaco di Alghero, Mario Conoci, il presidente della Fondazione Alghero, Andrea De Logu, il rettore merito dell'Università di Sassari, Attilio Mastino, che in suo onore ha proposto un intervento dal titolo Il Golfo delle Ninfe, la bellezza della Sardegna romana, l'eredità oggi nella visione di Guido Clemente, Antonella De Riù, funzionaria del Parco di Porto Conte, e Sergio Staino, amico del professor Clemente, che è stato, tra l'altro, per anni assessore della cultura del Comune di Firenze, e con il quale ha dato vita ad importanti eventi culturali che hanno animato il capoluogo fiorentino per anni. Soddisfatti i direttori artistici del Festival, Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona. Siamo molto felici della serata alla Villa Romana di Sant'Imbenia, ancora di più perché è dedicata al professor Clemente, che ha creduto fin da subito al progetto del Festival e ci ha aiutato moltissimo in questi anni. Abbiamo pensato che la Villa fosse il luogo più adatto per celebrarlo e per ricordare il suo lavoro prezioso, non solo per Alghero e la Sardegna, ma per il panorama culturale dell'intero paese. L'amministrazione comunale di Olzai, in rappresentanza della intera comunità, interpretando la volontà espressa dalla maggioranza dei sardi, vuole rendere evidente e fattiva la solidarietà verso il popolo afgano, in particolare per la parte più debole, le donne e le bambine. Lo ha annunciato la sindaca del centro della Barbagia, Maria Maddalena Agus, dopo che la Giunta, rinita in seduta straordinaria, ha deliberato di essere pronti a qualsiasi iniziativa finalizzata alla salvezza di vite umane e a garantire i diritti delle donne e delle bambine afghane. Con un omaggio ad Astor Piazzolla, nel centenario dalla nascita, domenica 22 agosto, calerà il sipario sui tramonti di Porto Flavia, la manifestazione organizzata dall'associazione culturale Anton Stadler davanti all'ex miniera di Masua. L'appuntamento è alle 20.30 con il duo Forte Cello, formato dalla violoncellista polacca Anna Mukulska e dal pianista franco-spagnolo Philippe Argenti, che proporrà un concerto dal titolo Classic Meets Tango, brani di Carlos Gardel, Astor Piazzolla, ma anche di Frédéric Chopin e Camille Sensen, per una serata nella quale i due musicisti metteranno a nudo il tango argentino, mostrando fino a che punto rimane ancora ancorato alla musica classica, dalle sue radici sia europee che afro-americane. Cala il sipario domani, sabato 21 agosto, sulla decima edizione del Festival Culturale Libera Evento. A Iglesias è previsto il doppio appuntamento dal titolo Scorci di gustosa e aromatica bellezza, Andar per Giardini, realizzato in collaborazione con i Giardini della Biodiversità, con l'obiettivo di far conoscere, valorizzare e far accrescere un patrimonio di giardini presente in città, caratterizzato dalla presenza di antichi alberi da frutto. Si sposta in Ogliastra, più precisamente a Barisardo, la carovana di Cincincanonau, organizzata dall'associazione Bottega in Piazza. L'iniziativa potrebbe diventare un appuntamento annuale. Partita a luglio da Villa Simius, dopo Santa Teresa e Pula, la mostra a Cincincanonau è approdata a Castiadas, dove ha riscosso un successo andato oltre ogni aspettativa. Siamo un comune prettamente agricolo, ha detto soddisfatto il sindaco di Castiadas, e Eugenio Murgioni. Ed uno dei settori principali del comparto è proprio la viticoltura. La nostra è una zona vocata a questa attività, ma in passato probabilmente è stata sottovalutata. Adesso invece, anche grazie al lavoro costante dei presidenti che hanno rappresentato la nostra cantina e all'impegno e alla professionalità di tutti i produttori, siamo cresciuti per qualità ed importanza. Doppio appuntamento agostano per la sezione di Carloforte della Lega Navale Italiana tra sport e cultura legata al mare. Domenica 22 agosto, il sodalizio tabarchino guidato dal presidente Bernardo Camboni è partner dell'impresa che tenterà il nuotatore caglialitano Corrado Sorrentino nel compiere per la prima volta il giro dell'isola di San Pietro a nuoto. Accompagnato dal suo team, che lo sosterrà in mare durante il nuoto, Sorrentino partirà dalla spiaggia della Caletta all'alba per farvi il ritorno nel pomeriggio dopo aver nuotato per oltre 32 chilometri con di meteo, condizioni del meteo marine permettendo. L'iniziativa, supportata anche dal comune di Carloforte e sponsor privati, fa parte dell'Amelias Swimming Marathon avendo lo scopo di raccogliere fondi destinati ai reparti pediatrici dell'ospedale Brozzo di Cagliari. Martedì 24 agosto presso la sede di Viale Osservatorio Astronomico a partire dalle 20 si trarà invece la presentazione del libro del velista Gaetano Mura Le sirene hanno smesso di cantare insieme al giornalista Simone Repetto che dialogherà con l'autore. Per la prima volta Mura descrive in un libro le esperienze più significative che hanno segnato la sua vita dalla giovinezza calagonone sino alle emozioni provate nelle grandi traversate oceaniche che l'hanno visto protagonista e reso famoso al grande pubblico. Era l'ultima notizia di questo telegiornale io vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento alle prossime intanto vi auguro di trascorrere una buona giornata. Grazie